Un uomo taciturno vede la sua casa invasa da tre curiosi personaggi. Una ragazza dolcissima anche troppo, un camionista scorbutico, un autostoppista meridionale in viaggio verso la famiglia. Nessuno è quello che sembra e la commedia surreale si trasforma poco a poco in un giallo pieno di equivoci e colpi di scena, fino ad un finale incredibile. Senta, ma lei sta aspettando degli occhi? Assolutamente ero! Come mai non ti vuoi parlare di me? Scritto e diretto da Massimiliano Pazzaglia, con Massimiliano Pazzaglia, Gioia Montanari, Francesco Rossini e per Paolo Saraceno. Senta, ma non è che lei tante volte che ha la macchina da prestare? Ah, non ce l'ho, già io l'ho detta alla signorina che non ce l'ho. Non sparate sul presepe. Il 21, 22, 27, 28 e 29 dicembre al Teatro Le Sedie. Vicolo dell'Abaro 7.